...venire qui. E ora che ho i baffi mi sembra proprio il momento perfetto. Wow, non so da dove cominciare. Vorremmo del salame e... Brian, Brian, lascia fare a me. Ah, scusasse, cacchio, cacome? Che dice? Peter, che cosa stai facendo? Parlo in dialetto. Cado un cacchiacchiotto, vado, vado, vossia, che c'ho vado. Peter, non puoi parlare così solo perché adesso hai i baffi. Mizzi, capite, ma... Ma tu sei pazzo. Esci dentro di sto negozio. Ma cacome che c'ho... Basta questo cretinato, tu non voglio in barca se contino così. Fuori, usci!